Buongiorno, tutti i foni, abbiamo una giornata molto bella, mi sono arrivato al taglio della gravidanza, mi sono arrivato alla nostra famiglia e ho aspettato che mi sono arrivato, quindi mi sono arrivato alla mia famiglia, mi sono arrivato al taglio della gravidanza, mi sono persone che scrivono che io nelle storie mi metto i filtri nascosti, mi hanno scritto, ma ci sono, vi giuro che mi fate morire, ma quando mai ho messo un filtro? L'unico filtro che ho, e si vede perché sono comunque molto più carina secondo me, è un amore, è il filtro gravidanza, molto gravidanza, quando sei incinta sei un pochino più carina in viso, più raggianti, più raggianti, dice già, ma comunque il filtro che ho è quello, e basta.